Chiediamo al segretario e alla segreteria cittadina il massimo sforzo di apertura e coinvolgimento sul programma e dallo stesso tempo chiediamo che in coerenza con le previsioni del nostro statuto la direzione dia mandato al segretario cittadino di avviare, con un gruppo di lavoro plurale e inclusivo, larghe consultazioni nel PD per individuare la figura più forte e rappresentativa da offrire alla coalizione come candidato sindaco. È questo il trafiletto impolitichese che sancisce il no alle primarie da parte del Partito Democratico Fiorentino. Il documento è stato votato ieri nella direzione del PD e avvallato dall'80% dei membri dell'Assemblea Cittadina, una larghissima maggioranza che cancella i sogni di chi, come Cecilia Del Re, sperava in un confronto aperto per la scelta del candidato Dem. Invece, con ogni probabilità, il nome che si tenterà sarà quello di Sara Funaro, fedelissima di Nardella e forte di un consenso larghissimo, almeno stando all'ultimo sondaggio Winpool, convinzionato dal Nazareno. Ma Del Re non ci sta. I suoi sostenitori parlano di esclusione e rilanciano con la piattaforma Sara a Firenze, che domani sera organizza la prima convention pubblica al Tuscany Hall. Sarà l'occasione per contarsi, dato che un altro sondaggio attribuiva proprio a Del Re il maggiore consenso tra gli elettori di centro-sinistra, ma anche per vedere chi deciderà di metterci la faccia e sedersi nella platea dell'ex assessora. Tra loro potrebbero esserci, ad esempio, quei riformisti, sostenitori di buonaccini alle primarie, che non vedono di buon occhio l'asse Nardella-Fossi-Giani. Di fatto, la triade che oggi governa le scelte del PD in Toscana, anche in relazione alle candidature per amministrative ed europee. E chissà che da quella parte non si scelga lo sgambetto a Nardella, magari candidando a Strasburgo uno come Matteo Biffoni, Antonio Mazzeo o Brenda Barnini. Resta il fatto che ad oggi la federazione gigliata del PD, una delle più solide d'Italia, chiude all'idea delle primarie, forse spaventato dalle possibili divisioni, e tenta di guidare gli elettori verso un nome deciso a tavolino. L'iter prevede ora l'individuazione ufficiale di quel nome, che sarà con ogni probabilità Funaro, e poi il test dell'Assemblea Cittadina, il tutto da svolgersi entro la fine dell'anno, in tempo per eventuali dietrofront, se questa strada non dovesse dare i risultati sperati.